tutto nella giusta misura impariamo qualche vocabolo legato a misure e quantità quanta acqua c'è nella bottiglia poca quanti soldi hai nel portafogli non abbastanza quanto zucchero prende nel caffè ancora un po quanto cibo avete portato tanto cosa hanno in comune tutte le mie domande giusto cominciano tutte per quanto vi fil vi fil quanto può essere un modo di chiedere quanto costa ma a qual prezzo io non compro niente nulla è pazzesco anche se qui è tutto bellissimo io non comparerei tutto niente nulla nichts gar nichts nichts gar nichts è il contrario di tutto alles alles abbiamo comprato così poco ma speso molto poco wenig wenig oppure molto viel viel il venditore l'ha detto che lui l'ha pagato di più beh di solito costa meno ai venditori e a noi di più così è il commercio meno weniger weniger è il contrario di più meer meer volete salire sulla torre spiacente io resto qui per me è già abbastanza lì ci sono troppi scalini abbastanza è il contrario di troppo zu viel zu viel loro salgono sulla torre io resto qui un altro po' di compere ancora un poco un po' noch ein bisschen noch ein bisschen noch ein bisschen gli ci vorrà all'incirca mezz'ora non esattamente ma all'incirca ungefähr ungefähr aspetta che conto quanti spiccioli mi sono rimasti? basteranno per un caffè cornetto? mi pare di sì più o meno Sono al bar a guardare tutti i miei acquisti. Ero convinta che fossero di più. È tutto? Ist das alles? Per oggi è sufficiente. Tornano dalla torre. Com'era? Eccezionale? Ne valeva la pena, mi dicono. Veramente? Magari ci vengo domani. Forse. È possibile abbreviare il percorso arrivando da questa strada? Certo, è possibile. No, non è affatto possibile. Attenzione alla differenza. È possibile. È il contrario di non è possibile. Unmogli. Unmogli. Sei sicura? Sì. Certamente. Sicur. Sicur. Come sempre hai ragione tu. Ovviamente. Natürlich. Natürlich. Certo, senza dubbio. Sicuramente. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. E io invece penso che se ne parla proprio. Non esiste. Figuriamoci. Stai scherzando. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall.